La premier inglese Theresa May pensate che avrebbe fatto, quindi compiuto una dichiarazione spontanea, piuttosto, diciamo così, scioccante da un certo punto di vista. Infatti la donna inglese in questione avrebbe pronunciato le seguenti parole. Mi dimetterò come leader del partito conservatore il 7 giugno 2019. Questa è la dichiarazione che Theresa avrebbe fatto da Downing Street anticipando che il processo per la scelta del suo successore andrà a iniziare, quindi andrà a prendere l'avvio nella prossima settimana di tempo. Vi ringrazio, un caro salutone a voi, esimi utenti di Youtube. Ovviamente Theresa May fa parte di quella Inghilterra che ad oggi viene considerata Inghilterra democratica, che tutti vanno a riconoscere come tale. Grazie ancora a voi, al prossimo video, esimi utenti di Youtube, da Leandro Arias, narratore italiano.